Salve a tutti cari amici, sono sempre io, ricercatore Emiliano Babilonia. Oggi 13.09.2019, alle ore 15 sono successi degli avvenimenti quasi surreali da film di fantascienza. Vi spiego che cosa è successo. Questa mattina io dovevo andare a un appuntamento con una persona che mi doveva praticamente far vedere dei componenti di un pc perché sto creando un pc per effettuare i montaggi video e avere più velocità nella creazione dei video. Allora ho contattato questo ragazzo, ci siamo messi d'accordo e mi ha detto verso le 11, 11 e un quarto ci vediamo a un bar. Io sono arrivato a questo bar, gli ho mandato un messaggio tramite Messenger e lui mi ha detto, ah ok, sto arrivando, ho aspettato le 11, ovviamente è l'appuntamento delle 11, 11 e un quarto, ho aspettato le 11 e un quarto, ho aspettato le 11 e 30, le 11 e 45, poi l'ho chiamato e gli ho detto, guarda io a mezzogiorno, te l'avevo detto, avevo, cioè ho un altro appuntamento e quindi mi sposto da questo posto e vado al centro commerciale. Quello che sta vicino l'Eur. A un certo punto questa persona non mi risponde più e sembrava come se le risposte che mi stava dando erano totalmente differenti dalle risposte che mi ha dato il giorno prima dell'appuntamento. Sembrava come se qualcuno aveva clonato il suo account e stava rispondendo da centrali operative remote per far sì di farmi spostare e di farmi rimanere ovviamente tanto tempo lì ad aspettare questa persona che ovviamente non sarebbe mai arrivata. Allora io ho aspettato fino alle 11 e 45, tanto stavo di strada da lì a dove dovevo andare era un chilometro, ma alle 11 e 45 vado via. Vado a questo centro commerciale, parlo con questa persona, finito di parlare con questa persona, succede un avvenimento veramente anomalo. Vedo una persona seduta su una panchina, mi chiama, mi si avvicina, cioè mi chiama, io mi avvicino a lui, mi metto seduto vicino a lui e questo mi dice che è una persona delle forze dell'ordine. Io ovviamente stavo là e ho detto si, mi incomincia a raccontare tutta una storia della torre di Babele, mi incomincia poi a dire che c'è un'arca, l'arca praticamente, l'arca dell'alleanza, o l'arca di Noè, che ci prenderà tutti quanti e ci porterà praticamente su un cielo in alto, come se fosse un'astronave. Io capisco la situazione che questa persona era pilotata con il controllo mentale a distanza e che era diventato una marionetta da strada, coloro che pilotano per far succedere determinati avvenimenti alle vittime del controllo mentale, come sono io e come sono tante altre vittime. Ma questa persona non era in grado di capire quello che realmente stava facendo e quello che realmente stava dicendo, perché vengono manipolati al tal punto e ipnotizzati che quando finiscono di dire determinate frasi o di fare determinati gesti non si ricordano di averli fatti, sono manciuliani a tutti gli effetti. Lui mi dice aspetta qui vicino a me perché alle ore 15 scopperà un avvenimento, un incendio, un qualcosa di particolare. Io ovviamente gli dico guarda, mi allontano però un secondo perché vado un attimo all'interno di non so se è un euro, che cosa c'è lì all'interno di questo centro commerciale per andare a vedere un tappetino del mouse grosso quanto costava. Allora io che faccio? Vado all'interno di questo negozio per vendere il pc, vedo il tappetino, però da lontano io cercavo di vedere che cosa faceva questa persona. Perché ovviamente ultimamente stanno succedendo delle cose anomale a poliziotti, finanzieri, carabinieri, persone delle guardie carcerarie oppure persone indivise al territorio nazionale gli hanno detto non è questo alle ore 15 fa qualche gesto particolare, fa qualcosa di particolare. Però non ho voluto allertare le forze dell'ordine oppure allertare la sicurezza all'interno del centro commerciale. Sono rimasto lì e ho aspettato per vedere che cosa succedeva. Dopo un po' mi avvicino nuovamente a questa persona, lui mi vede e mi dice del fatto della torre di Babbele che Babilonia, sentite bene, che Babilonia praticamente ritornerà. Quindi c'è qualcosa che non quadra. Come faceva a sapere Babilonia sarà stata una coincidenza. Allora praticamente io guardo tutta la scena e gli dico guarda io mi sposto un attimo perché devo andare a fare una cosa tramite mail perché dovevo vedere se mi arrivavano le nuove mail direttamente sulla mia email per vedere se le persone avevano visto oppure se avevano accettato le mie offerte per prendere questo tappetino e questi componenti se erano ancora disponibili per questo PC. Adesso mi manca solamente il processore. Allora mi guardo tutta la scena dopo un po' lui si alza e se ne va via. qualcuno all'interno del centro commerciale parlava che c'era una persona che stava fuori a questo centro commerciale e diceva tutte cose strane parlava di Dio parlava del cielo parlava che era finita che ci sono state le undici le undici morti del mondo e che stava arrivando praticamente questa undicesima dodicesima morte del mondo e che praticamente la Madonna non riusciva più a contenere il diavolo e quindi il diavolo usciva dagli inferi e ribruciava nuovamente tutta quanta la terra. ovviamente parliamo che questa persona è una persona di forze dell'ordine allora dopo un po' io non lo vedo più ho detto vabbè sarà andata a casa questa persona a un certo punto sentiamo le sirene che stavano arrivando le forze dell'ordine arrivano le forze dell'ordine io mi tranquillizzo perché vedevo queste persone in divisa che stavano cercando qualcuno perché si vede che altre persone avevano contattato il la sicurezza e la sicurezza aveva immediatamente chiamato le forze dell'ordine addirittura sono arrivati cinque poliziotti in borghese perché ho visto che praticamente entravano direttamente da la porta principale e andavano a vedere quello che stava succedendo all'interno di questo di questo centro commerciale ma non finisce qui questa persona va via e lui dice che alle ore 15 accadranno degli avvenimenti molto importanti alle ore 15 e 5 minuti un'altra persona che non c'entrava niente con questa persona una persona che non avevo mai visto arriva con una maglietta bianca con le bretelline entra all'interno di un negozio e chiede assistenza il ragazzo stava servendo le altre persone che ha detto guardi aspetti un attimo che io finisco con questa persona e poi gli do assistenza fatalità quel ragazzo viene chiamato dal direttore che dice vai a pranzo prima te così gli altri possono andare a pranzo successivamente dopo e possono finire di fare determinate cose allora il commesso esegue gli ordini del direttore prende esce fuori praticamente dal negozio questa persona si mette le mani in mezzo ai capelli incomincia a piangere ad urlare come un bambino sbattendo i piedi per terra urlando cercava di strapparsi i capelli urlava proprio tutti quanti si siamo aggirati e hanno detto ecco cosa sta succedendo porco giorno questo ha detto alle ore 15 sarebbero successe dei catastrofi e qui stanno succedendo succedendo catastrofi da tutte le parti ma non è possibile sembrava un film di fantascienza questa persona si mette sul ballatoio del piano e sotto ci sono gli altri piani e sembrava come se si stava buttando di sotto a un certo punto la fortuna ha voluto che sono arrivati perché sentivano le urla di questa persona i poliziotti in borghese e sono andati a fermare questa persona e gli hanno detto che cosa succede ah tutti ce l'hanno con me io chiedo una cosa nessuno mi segue nessuno mi da retta ma perché che cosa ho fatto io perché 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 lo prende questa persona e dice esci esci fuori da qui esci fuori tranquillizzati vieni vieni con me e l'hanno portato fuori e siamo a due a un certo punto entra un'altra persona che mi dice che fuori c'era un'altra terza persona che stava con una specie di scooter che incominciava ad urlare e urlava all'entrata principale tutte cose strane diceva tutte cose della morte che stavano arrivando adesso ci prenderanno tutti adesso ci porteranno tutti via ma come è possibile che lo stesso identico giorno e dopo le ore quindici tre persone escono fuori di testa e scoppia il delirio all'interno di questo posto meno male che c'erano le forze dell'ordine dopo qualcuna le forze dell'ordine hanno chiamato pure un'ambulanza per vedere queste persone perché stavano così perché addirittura hanno pensato che erano delle persone che sono vestite degli allucinogeni ma tutti e tre sembrava che non si conoscevano tra di loro stavano lì per caso per un attimo io ho visto l'apocalissi in Italia ho visto il sistema del controllo radiocognitivo come se stava zombificando la popolazione in un'intera area geografica c'era un film non mi ricordo se è Cell che è stato fatto ultimamente questo film e fa vedere che con le frequenze dei telefonini le persone diventavano dei zombie e si incominciavano a suicidare cominciavano a fare tutte cose strane oppure come il film fattore di controllo che i militari sparano delle frequenze attraverso i ripetitori i rapri i ripetitori delle comunicazioni telefoniche e le persone incominciano a diventare aggressive e violente contro tutti quelli che gli stavano intorno poi avevo visto un altro film che c'era praticamente una sorta di nube elettromagnetica che si avvicinava vicino alle persone le persone entravano in stato di trance ipnotico e si suicidavano in mezzo alla strada si buttavano dai ponti sotto le macchine facevano gravi incidenti stradali ho detto non vorrei che questi terroristi militari con i satelli di spia stanno incominciando a fare attacchi terroristici a larga scala sul territorio nazionale italiano e per un attimo veramente temuto il peggio degli avvenimenti che stavano accadendo dopo sembra che quando sono arrivate ovviamente le forze dell'ordine è arrivata l'ambulanza che tutto quello che stava accadendo che stava diventando insomma preoccupante per il centro commerciale si sia piano 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 tutto tranquillizzato però le commesse hanno detto dice questo camminava e diceva adesso succede la catastrofe tutti moriremo alle 15 moriremo tutti e molte ci sono veramente messe paura infatti molte di queste hanno messo per pazzo per malaveremente hanno detto questo sicuramente chissà che che se è fumato chissà che se che acido si è presa è incominciato a entrare stato di delitto io invece credo che quelli erano dei messaggi subliminari che dovevano arrivare alle persone e fatalità io stando lì conoscendo questo sistema di controllo e di manipolazione mentale perché me lo fanno anche a me lavaggi del cervello tortura e manipolazione addirittura la notte molte volte mi fanno credere che ci sono delle presenze persone che camminano dentro casa che si spostano i mobili oppure addirittura che scricchiano le porte una volta mi hanno fatto sentire addirittura la porta come se faceva come se si apriva la porta di casa addirittura le mandate della serratura della porta blindata ovviamente quell'oro lo fanno apposta per creare la psicologia del terrore però cari amici qui non è possibile che a comando in determinate ore sembra il film le 11 e 45 che tutti gli avvenimenti dovevano accadere in quel determinato momento a quella determinata ora perché quando quella ha detto dopo le ore 15 succederanno delle catastrofi dopo le ore 15 sono scoppiate tutte queste persone ad avere dei gravi problemi e un'altra cosa molto strana anche che è accaduta che molte persone avevano i mal di testa dopo le 15 e farecchie addirittura chiedevano se c'erano la vagina se c'erano la haulin o se c'erano le aspirine questo è ovviamente pure lì vogliamo dire un'altra coincidenza ma quante coincidenze nello stesso identico momento e nello stesso identico luogo non si sa molta gente mi dice io sono un visionario un complottista oppure io vedo come realmente determinate queste tecnologie vengono utilizzate sulla popolazione italiana a cavia umana radio pilotata e se queste tecnologie vanno in mano ma già stanno in mano a terroristi di mafia militare in Italia succederanno catastrofi ma veramente catastrofi che le persone verranno comandate attraverso le armi radio satellitari e tutti dovranno eseguire gli ordini impartiti da questi manipolatori o da questi sistemi addirittura qualcuno ha detto che potrebbero far credere che un dio ci parla dall'alto di cieli ma un dio virtuale simulato e parlerà all'interno dei cervelli di tutte le persone per far credere che sta arrivando e noi dobbiamo eseguire tutti gli ordini di questo dio ovviamente un dio virtuale o qualcuno ha detto potrebbe essere che fanno credere che è un dio alieno o che fanno credere che è un dio proveniente dagli inferi degli inferi cioè rendiamoci conto quello che possono fare pensate che una ragazza andava in chiesa quando il prete tirava l'acqua benedetta lei si bagnava ovviamente oppure quando prendeva l'ostia gli facevano sentire le ustioni su tutto il corpo come se lei era posseduta da satana dal diavolo gli ho detto guarda non credere a queste cose adesso facciamo un test io sono entrato dentro casa parlavo con la ragazza gli ho detto adesso voglio vedere che cosa succede erano due bottigliette d'acqua uguali ai denti che prese da rubinetto allora gli ho detto qual è quella con l'acqua santa e lei cominciava a dire oddio oddio la seconda la seconda erano due acque perfettamente uguali perché simulano le frequenze delle bruciature me lo fanno a me mi faccio la doccia esco dalla doccia simulano come se il corpo diventa bollente e come se si sentono delustioni forti e io ovviamente devo dovrei correre di corsa dal dottore oddio oppure dal prete oddio satana mi sta venendo a prendere e ovviamente molte persone poverine sono cascate in questo tranello e hanno avuto dei gravissimi problemi successivamente dopo a queste manipolazioni che loro hanno avuto perché ovviamente le persone hanno preso il passo pensate che addirittura c'era una persona che mi ha contattato che mi ha detto stanno facendo i compaesani la festa della madonna del paese perché tutti quanti mi devono prendere in giro e passare vicino casa mia e fotografare praticamente la mia la mia persona la mia casa ho detto scusa ma se la chiesa sta nella piazza vicino alla tua abitazione le persone che vengono lì fotografano praticamente la piazza e se il tuo appartamento sta a fianco fotografano anche il tuo appartamento invece questa persona dice no l'hanno fatta apposta perché così fotografando la mia abitazione mi possono prendere in giro e mi possono stalkerizzare e non è così fidatevi perché se c'è la madonna e la festa della piazza la madonna esce dalla chiesa che deve fare il giro della piazza e poi ritornare in piazza la gente fotografa tutti quelli che ovviamente stanno all'interno dell'evento della piazza perché è un evento pubblico e lui dice che non è così purtroppo io glielo ho detto molte volte addirittura dato dal sindaco del paese gli ha detto di far spostare la la festa perché lui veniva stalkerizzato da queste persone che mettevano poi su internet le fotografie della sua abitazione e di lui ovviamente che stava davanti alla porta della sua abitazione il sindaco ha detto scusa ma la madonna esce dalla chiesa la chiesa è quella io non è posso spostare la chiesa perché te hai casa lì gli ha detto il sindaco chiudi casa e te sposta di un'altra parte lui ha detto dove vado io quando c'è la festa mi sposto da casa ovviamente i ragionamenti distorti delle vittime del controllo mentale quindi il famigerato teatrino da strada sono i manipolatori con i sistemi radiocognitivi che manipolano delle persone dei burattini per strada che neanche si accorgono di essere dotati per far sì che voi dovete capire vedere e sentire quello che fanno le marionette non che quelli sono dei stalker pagati per venire dietro a voi e fare i datriti da strada no quelle sono persone che neanche sanno di essere pilotate neanche sanno quello che stanno facendo neanche sanno quello che stanno dicendo perché molte volte sono simulate attraverso allucinazioni e autovisive ma ultimamente stanno creando simulazioni reali che noi vittime che siamo svegli e riusciamo a capire quello che accade chi dorme non capisce quello che sta succedendo realmente quindi non ve ne andate a prendere per strada con queste persone che c'entrano niente oppure i vostri vicini di casa che magari vengono pilotati con questo sistema per far succedere degli avvenimenti adesso ve ne dico una io la mattina quando vengo attaccato alle 7 di mattina con determinate frequenze e radiazioni io esco fuori dal balcone e molte volte sto solo con la magliettina o solo col pantaloncino fatalità mi fanno uscire dal balcone quando c'è la vicina che esce fuori dal balcone lo fanno apposta questo perché così la vicina mi vede e io faccio la figura che sto a petto nudo oppure faccio la figura che sto in mutande vi faccio un esempio e quindi sono costretto tutte le volte a mettere i pantaloncini e le magliette per uscire fuori dal balcone che magari potrebbe essere che la vicina sta fuori a fumarsi una sigaretta io non me ne accordo e esco fuori nudo nudo nel senso che sto solo con i strip e la vicina magari mi può vedere allora a me mi dà fastidio insomma che esco fuori e mi vede insomma la vicina perché non è che io sono un bronzo di riace insomma a causa di queste radiazioni mi sono ingrassato di 10-15 chili ovviamente possono manipolare la tiroide a loro piacimento con queste frequenze perché durante la notte non destabilizzano le frequenze fisiologiche e ci alterano tutti i parametri nel nostro cervello pensate che mi stanno surriscaldando la fronte in questo momento sto davanti alla finestra e questa sera va pure fresco a Roma amici vi lascio la mia mail vittime del controllo onorale chiocciolagmail.com se vi accadono degli avvenimenti strani se venite manipolati o sentite le voci elettroniche messe nel vostro cervello contattatemi per fare un'intervista testimonianza anche anonima che metteremo su tutti i miei canali Angeli Custodi MK Ultra Italia Emiliano Babilonia oppure sul gruppo siamo tutti cavi su Facebook oppure il secondo gruppo Elettro Ingegneria Grandestina per far sì di poter divulgare tutto quello che a noi ci accade e poi per far capire alle vittime che entrano a far parte di questo mondo parallelo e deviato che non sono pazzi e malattie di mente ma che vengono manipolati per farli sembrare tali quindi restiamo uniti noi siamo la resistenza e dobbiamo capire interagire e studiare e proteggere le persone che ci stanno vicino e che entrano in questo mondo deviato di mafia militare e purtroppo il mondo deviato delle sperimentazioni collaudi dei satelliti sulla popolazione italiana ormai è diventata una cosa valese e quindi dobbiamo far capire a queste persone immediatamente di andare a fare una denuncia cautelativa all'interno ovviamente dell'ufficio del tribunale di fare un'intervista a testimonianza di unirsi al nostro gruppo alla nostra associazione di Roma e di cercare di restare tutti quanti uniti insieme per diventare la resistenza e proteggere tutte le persone target individuals che ovviamente stazionano nel territorio nazionale italiano un saluto a tutti amici da ricercatore Emiliano Babilonia cave umana dal 10 febbraio del 2001 dopo un anomalo fermo della gendarmeria nera di Roma ma credo ovviamente che la gendarmeria nera era solo un pretesto per poter iniziare collaudi e sperimentazioni di armamenti radiocognitivi attraverso un elettroencefalografo trascranico satellitare militare elettromagnetico che spara nei nostri centi nervosi nella nostra abitazione e all'interno della nostra autovettura quindi restiamo uniti per combattere questi terroristi di mafia militare italiana come attraverso attraverso attraverso